Hai fame? Di sapere? È arrivato Street Food on the Road, un progetto culturale che promuove il buon cibo di strada, piatti tradizionali e ricette dal mondo pronte da gustare mentre vivi la tua città in un'ottica sociale ed ecosostenibile. Street Food on the Road propone eventi per valorizzare il territorio, Temporary Design Exhibition, un'app interattiva e Street Game. Sei ancora affamato? Scopri di più su www.streetfoodontherroad.net